Salve amici e benvenuti, è il momento di parlare di nuovo di Last Epoch, manca pochissimo alla release della 1.0, praticamente domani i server andanno down e saranno down fino alla 1.0. Mi sembra quindi l'ottimo momento per farvi una guida iniziale del gioco, infatti ho giocato una circa ventina, trentina di ore in questo mese di febbraio, ho portato un paio di personaggi al 50 e quindi insomma mi sono fatto un'idea, soprattutto la parte iniziale del gioco. In questa guida iniziale io vorrei un po' spiegarvi le basi, inoltre vorrei spiegarvi come crearvi da soli potenzialmente una build, anche perché una delle caratteristiche più importanti di Last Tip è quella di avere un'ottima profondità della costruzione del personaggio e se si capiscono le basi si possono fare tranquillamente build da soli senza seguire quelle su internet. Poi ovviamente ragazzi andate su Max Roll se volete e ci sono guide super dettagliate, ci sono anche dei loot filter da importare e potete andare su binari. Però vi assicuro che farvi la vostra build in questo gioco è particolarmente divertente. In questo gioco non parlerò in maniera approfondita di due cose però. Non parlerò della forgia, quindi del crafting, perché per quello ci vuole secondo me un video a parte, che comunque arriverà a breve, e non parlerò dell'endgame perché non ci sono arrivato in queste mie prove di questo mese di febbraio e soprattutto però perché non è detto che sia identico quello che ci sarà nella 1.0. Perché la 1.0 è una patch gigantesca, aggiunge due classi intere, due classi di specializzazione, il falconeer e il warlock, oltre che farà un backfixing allucinante del gioco e cambierà anche la grafica del gioco migliorandola insomma, quindi molti cambiamenti. Quindi è probabile che anche l'endgame sarà leggermente diverso, molto diverso da quello che c'è stato fino adesso in beta. Bene, fatte tutte queste premesse e cominciamo. Prima di tutto sono rimasto in questa schermata perché la primissima cosa da farvi notare è che questo gioco si può giocare sia online che offline, che non è una banalità, dato che nel 2024 la maggior parte dei giochi anche di action rpg è always online. In realtà qui possiamo giocare anche offline, quindi senza bisogno di una connessione internet e per esempio potremmo giocarlo sullo Steam Deck. Se avete uno Steam Deck potreste giocare offline allo Steam Deck alla Steam Deck. Come vi ho detto ho fatto qualche personaggio offline, ma ho fatto anche dei personaggi online, quindi ho provato la versione multiplayer. Chiaramente queste due versioni del gioco, queste due tipologie di chiamiamole leghe, tra virgolette, sono separate. Quindi se fate un personaggio offline la banca condivise sarà condivisa con i personaggi offline, ma non con quelli online. E se ve lo chiedete e avete fatto dei personaggi online in questa beta o in questo accesso anticipato agli ultimi tipo 5 anni, i vostri personaggi non verranno persi ma passeranno a essere offline. Il gioco inizierà direttamente con una stagione, però queste stagioni saranno diverse da quello che vi potete aspettare da altri giochi, come Path of Exile o Diablo 4. Infatti la stagione non avrà dei contenuti speciali, esclusivi della stagione, saranno gli stessi contenuti eventualmente di chi vorrà giocare, per esempio offline o comunque fuori stagione. L'unica differenza è che chiaramente la stagione durerà un tot di mesi e avrà le sue classifiche, le sue ladder, perché il gioco chiaramente comincia già con delle classifiche. In Last of the Book potete creare varie tipologie di personaggi, nel senso che oltre all'online e offline, se creiamo un nuovo personaggio, scegliamo una classe, mettiamo un nome a caso, poi vediamo un attimo le classi ovviamente. Possiamo scegliere se è standard, quindi il soft core, l'hard core, oppure aggiungere anche delle challenge, come il charter found, che sarebbe il solo self found, quindi giocare senza poter interagire con altri giocatori, ma utilizzare solamente il loot che si trova, e ovviamente questo avrà una sua classifica a parte eventualmente. Oppure masochist, che non ho sbloccato perché bisogna prima finire la campagna per sbloccarlo. La particolarità dell'hard core in questo gioco è che se voi crepate in hard core, chiaramente perdete il personaggio hard core, ma non viene cancellato, ma viene passato soft core, quindi potete continuare a giocarci se volete. Detto questo, torniamo indietro e vi faccio vedere che il gioco ha 5 classi base. Ognuna di queste classi ha 3 specializzazioni. Potete già, prima ancora di creare il personaggio, comunque vedere un pochino tutte le skill della classe base e tutte le skill e anche una piccola descrizione delle classi di specializzazione. In generale il gioco è molto flessibile, si possono rispeccare tutte le skill passive e anche quelle attive, poi vediamo esattamente come funziona, però fino ad oggi non si può rispeccare la classe di specializzazione. Onestamente non so se questa cosa cambierà con la 1.0, ma probabilmente no. Quindi comunque quando dovrete andare a scegliere la specializzazione sappiate che poi è probabilmente una scelta definitiva. Tra l'altro una scelta che arriva abbastanza presto perché la scelta della specializzazione arriva seguendo la campagna principale e di solito ci si arriva lì intorno al livello 15-20 massimo, che non sono neanche troppissime ore di gioco. Ovviamente ci sono tutte le tipologie di gioco e di gameplay, di classi che potete aspettarvi in un action rpg, quindi abbiamo la sentinel che è un pochino più tankosa che può diventare void knight, forge guard o paladino, abbiamo il mago che può diventare sorcerer, spellblade o runemaster, il rogue che può diventare blade dancer, marksman o falconeer, che appunto è una delle classiche che arriverà con la 1.0, poi abbiamo il primalist che può diventare beastmaster, sciamano o druido e infine l'accolito che può essere necromancer, lich e poi arriverà anche il warlock, quindi c'è una enorme varietà di gioco. Ora entriamo in gioco e parliamo anche di altre cose. Come ho detto all'inizio, una delle cose più importanti, secondo me anche per il divertimento, è quello di capire come funziona il gioco, soprattutto lo scaling dei danni, per poi crearsi una propria build. Le basi fondamentali per crearsi una propria build, senza dover seguire ovviamente quelle dei siti, è quella di avere due o tre cose fondamentali all'interno della build, ovvero un'abilità che faccia un danno molto molto consistente, tipo quella con cui spammerete gli attacchi. Per esempio in questa build del paladino lui tira una lancia che dà una strisciata di fuoco dietro di esse e fa un ottimo danno over time, quindi il javelin. Questa è l'abilità principale con cui si fa danno per esempio in questa build. Dopodiché servono sicuramente delle abilità di movimento, in questo caso in questa build il paladino ha lo shield rush, dove praticamente lui corre diritto per diritto a una bella velocità finché può, fondamentalmente, ma ogni classe ha una o anche due skill di movimento che vengono chiamate con traversal, vedete che tra gli scaling tag c'è anche scritto traversal. Questo è abbastanza fondamentale, questo in generale in tutti gli action RPG, perché una volta che siete diventati molto forti volete cercare di avanzare sempre più velocemente nelle mappe. Più avanzate velocemente, più nemici fate, più veloce droppate oggetti, eccetera eccetera. Dopodiché tipicamente una build ha bisogno di alcuni buff, alcuni difensivi, alcuni offensivi, per chiaramente aumentare le vostre difese e aumentare il vostro attacco. Più o meno questa è come si fa una build in generale. Ovviamente ci possono essere delle variazioni come quelle build fatte solo e unicamente sui minion e a quel punto cercate di massimizzare il danno dei minion. La cosa importante è che in questo Last T-Pock tutto è detto dal gioco, quindi potenzialmente non ci sono bisogno anche di guide esterne, perché il gioco vi dice qualsiasi cosa. Infatti quando poi farete mouse over praticamente su ogni singola cosa del gioco ci sarà una descrizione e sono descrizioni anche molto accurate. Quindi vi basta saper leggere per capire praticamente tutto. E in particolare per capire lo scaling dei danni anche qui bisogna semplicemente guardare quello che c'è scritto, perché c'è scritto scaling tags e quelli sono chiaramente gli affissi più importanti con cui quella data skill scala il suo danno. Per esempio questo javelin scala in physical, throwing, attack, forza e destrezza. Questo vuol dire che in generale per creare una build voi dovete specializzarvi tantissimo in trovare equipaggiamento che principalmente massimizza il danno dell'abilità che avete scelto su cui basare tutto. Non dovete chiaramente disdegnare le difese perché le difese funzionano praticamente come Diablo 2, quindi c'è un cap del 75% dove voi dovreste avere tutto cappato al 75% per poi non essere distrutti soprattutto nelle parti più avanzate del gioco. Dopodiché alcune build magari prevedono avere lo scudo e quindi essere più difensivi con lo scudo e aumentare la block mitigation, altre sul dodge, altre sul world retention, ma comunque come vedete tutto è scritto. Addirittura ci sono anche le formule matematiche, quindi è tutto molto dettagliato. L'importante è che leggete. Questo vale anche per le skill. Se premete alt avete anche altre ulteriori informazioni e questo vale sia per le skill, come vedete ci sono proprio tutte le statistiche e anche per esempio nello scaling cosa scala di più rispetto ad altre. È tutto molto preciso. C'è anche una barra di search se volete cercare delle parole chiave praticamente ovunque, sia qua dove ci sono il riepilogo delle skill, sia poi dentro i skill tree delle singole abilità. E ora parliamo anche di questo. Ogni abilità che andrete sbloccando e semplicemente sbloccando, alzandovi di lello e andando avanti alla campagna principale, una parte e altre le sbloccate invece mettendo le passive, perché fondamentalmente noi abbiamo due tipologie di skill tree, quello delle passive, uno riguardante la vostra classe principale e altri riguardanti le classi di specializzazione. Con la differenza che la classe di specializzazione in cui vi siete specializzati avete tutto lo skill tree sbloccato dove poter mettere i punti passivi, mentre le specializzazioni che non avete specializzato li potete comunque usare ma fino alla catena, quindi metà. Mettendo punti di specializzazione e passivi non solo mettete le passive e attivate le passive che ci sono scritte, ma in più ogni tot punti potete sbloccare anche delle attive. Per esempio in questa build si usa una attiva effettivamente di void knight, mettendo solo 5 punti in void knight, anche se io di fatto ho specializzato la classe paladino. Questo vi fa capire, penso al volo, quanto sia profondo il building in last tipo, che quante scelte diverse potete fare. Poi dal punto di vista delle skill attive ne potete mettere solamente 5 in bar, non sono tantissime effetti, però le potete tutte specializzare. Quindi man mano che voi le mettete in barra e le usate guadagnate punti, le expate. Più punti avete, più potete mettere punti nello specifico skill tree di ogni abilità. E tutto questo skill tree che è meno complesso di quello che voi potete immaginare permette comunque di modificare non solo i danni ma anche come funzionano le abilità. E ci sono a volte abilità sinergiche con altre, per esempio utilizzando una data abilità magari fa proccare un'altra abilità. Dico che è meno complesso del previsto perché tendenzialmente tutte si specializzano in un dato campo che è abbastanza ovvio se andate a leggere. Le cose più importanti sono diciamo i nodi esagonali, perché di solito sono quelli che aggiungono ulteriori passive oppure aggiungono ulteriori attive. E di solito tutti i nodi vicini a snodi significativi semplicemente cercano di aumentare quella tipologia di danno o di cambiamento della skill, ok? Come detto quando comincerete a giocare tutto sarà molto più semplice di quello che può sembrare. L'importante anche qui è leggere, perché per esempio qua c'è tutta questa descrizione di flambust, ma se io faccio alt mi dà più informazioni, è ancora più specifica. Come detto sia le attive che le passive possono essere rispeccate, infatti voi potete sia rispeccare i singoli punti che però poi dovete ri-exparre, oppure potete despecializzare la skill e quindi toglierla dagli slot di specializzazione e poi metterne un'altra per exparne un'altra. Stessa cosa potete fare con i punti passivi, anche qui potete semplicemente rispeccarli, solo che qua ci vuole un NPC apposito che si trova in tutte le città principali, questo qui col cervelletto vi permette di rispeccare pagando un tot per ogni punto, anche volendo tutti i punti di skill e poi rimetterli quando volete. Per quanto riguarda invece l'equipaggiamento, anche nell'equipaggiamento chiaramente dovete star bene a leggere e anche qui ci sono ulteriori informazioni che potete avere, per esempio anche qui con alt potete avere ulteriori informazioni, per esempio tra il range, del roll, delle varie statistiche e anche vedere il tier di quella statistica. Per capire al volo se è un buon oggetto o un cattivo oggetto. Considerate che ci sono mi sembra sei tier o sette e gli ultimi due possono essere raggiunti solo diciamo trovando un oggetto particolarmente buono, non con il craft. Come detto del craft ne parleremo in un altro video, però diciamo che la forgia funziona così, potete mettere un oggetto, potete modificarlo, avete dei forging potential, avete dei glifi e delle rune che potete applicare per modificare diciamo le armi, però insomma ne parleremo meglio in un altro video. Questo sistema comunque è molto molto figo e anche una volta capito non troppo complesso. Un'altra cosa che andrete sbloccando man mano che fate quest, soprattutto anche queste secondarie, sono gli idoli e gli spazi per gli idoli. Questi idoli semplicemente sono ulteriori oggetti che voi inserite nel vostro equipaggiamento per avere bonus. Chiaramente anche questi droppano dei bonus randomici. La particolarità di questa tab diciamo così degli idoli è che dovete farci il tetris, perché gli idoli non è che hanno tutti la stessa forma, anzi come vedete hanno forme diverse e bisogna giocare un po' a tetris per farli entrare qui dentro. Un'altra cosa importante da gestire ovviamente è la vostra banca e la cosa interessante in questo gioco è che potete avere fino a mi sembra 200 tab diverse. Dovete semplicemente spendere dei gold per comprarle e inoltre le potete editare in tutti i modi possibili immaginabili. Potete mettere delle categorie generali e delle sottocartelle e poi potete cambiargli il nome, potete cambiargli il colore, potete cambiargli il simbolo. Insomma potete fare quello che volete e renderle molto molto personalizzabili. Come vedete insomma potete avere l'ordine massimo nella vostra banca e catalogare tutto come preferite. Questo perché comunque nel gioco dropperete non solo le cose per la vostra classe ma anche quelle che vanno bene anche per altre classi. Quindi possibilmente voi trovate poi degli oggetti fighi e quando vi fate un secondo personaggio già potete prenderli e utilizzarli. Inoltre ok qui c'è poca roba perché io comunque questo personaggio non ha tantissime ore però immaginate un personaggio con 100 ore quanti oggetti andrà a trovare soprattutto in endgame e quindi c'è sicuramente il bisogno poi di catalogare tutto bene e avere tutto ordinato. Un'altra cosa importante quindi è anche il loot filter. Il loot filter ci vorrebbe un video a parte fondamentalmente però diciamo che potete inserire tantissime regole anche molto specifiche per aiutarvi a perdere meno tempo possibile quando droppate qualcosa. Una volta che avete capito più o meno che oggetti volete trovare, che affissi volete trovare potete cercare di raffinare il loot filter in modo da vedere solo quello che vi serve e raccogliere solo quello che vi serve. Questo vi farà risparmiare tantissimo tempo che di solito si perde in generale in action RPG per guardare ogni singolo oggetto che viene troppo. Un ultimo consiglio che voglio darvi quando costruite la vostra build e quando cominciate a cambiare oggetti e non capite bene forse se effettivamente il vostro danno sarà migliore o peggiore è semplicemente andate a guardare il tooltip. Perché il tooltip tutto sommato in questo gioco è abbastanza preciso e quindi per esempio vedete 1289 damage per second, se io mi sparo un paio di palline qui mi alza il danno e adesso è 1976. Questa cosa la potete utilizzare semplicemente quando andate a droppare dei nuovi oggetti per capire se non siete sicuri che quell'oggetto vi alzerà o meno il danno facendo dei cambi e vedete immediatamente al volo il cambio del danno nel tooltip e capite immediatamente se è un upgrade oppure no. Dal punto di vista invece difensivo vabbè è ovvio che basta che vedete le vostre resistenze e capite immediatamente se avete fatto un upgrade oppure no. E vi ripeto per qualsiasi dubbio su ogni singola dicitura basta che mettete il mouse over e vi dice esattamente cosa fare. Per esempio le statistiche, la mana regeneration oppure l'endurance, non capite che cos'è l'endurance e il gioco ve lo dice. Basta che posizionate il mouse su ogni cosa e al 99% ci sarà una descrizione e se premete alt ci sarà una descrizione ancora più accurata. Bene ragazzi secondo me questo è sufficiente come guida iniziale. Spero che il video vi sia piaciuto. Prossimamente ci sarà un altro video in particolare sul crafting perché lì ci vuole un pochino più di tempo specifico e poi quando arriverò comunque all'endgame nella 1.0 vi parlerò anche dell'endgame sia su cosa si farà e sia anche magari sulle mie opinioni su come mi sembrerà questo endgame. Però appunto voglio aspettare la 1.0. Bene a questo punto io chiudo qua il video. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti. Noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video qua sempre sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene e alla prossima. Ciao ciao!